Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video informativo Come da titolo mi dispiace di parlare male di questa azienda ma Purtroppo devo farlo perché ripeto ho avuto una pessima esperienza da partito Allora non so se è quello che gestisce tutto sta vedendo questo video Chiaramente sono quello che ha fatto anche il rimborso Che sì Allora come vi ho annunciato sarebbe arrivato un altro pacco dopo quello di ProGames 1501 Ma sto pacco non arriverà più Ma arriveranno altri pacchi comunque questo ne parleremo fra poco comunque Perché non arriverà più questo pacco? Allora come nomino è Willy Bsmart La catena di negozi Willy Bsmart non so se la conoscete È uno dei negozi che vada a Carini Dove diciamo la maggior parte delle cose Gli proviamo cose nuove e vi porto qui nel canale Chiaramente siccome non gli arriva quasi ma niente di nuovo Diciamo che ero costretto e sono costretto a ordinare online Cioè ho ordinato online dal loro sito perché hanno una catena di negozi in tutta Italia Diciamo che la sete fosse principale e all'ecco Lì per lì nel loro sito ho trovato varie lattine che dovevo ricomprare per la collezione Visto che comunque loro erano più di tutte Di quelle che cercavano rispetto ad altri siti Praticamente Non vi dico le cose nuove che dovevano arrivare Però praticamente dovevano arrivare Delle cose che dovevo ricomprare lattine Erano circa tre o quattro lattine Di queste quattro lattine erano Vi dico solo In totale l'ordine era di otto prodotti Quindi otto bibite Anzi sette bibite e un pacco di patatine dovevano essere Che dovevo arrivare Tre lattine per il video e un pacco di patatine per il video E quattro lattine che dovevo ricomprare per la collezione La cosa che mi fa un po' incazzare E' che posso comprendere che ne mancasse qualcuna Ma tutte queste? Cioè allora di otto cose che avevo ordinato Ne avevano due Cioè ne avevano due Cioè è assurda sta cosa Ma poi la cosa bella è che L'ordine l'ho fatto il 31 di agosto Fino a ieri zero C'è lettura anche della seta carini Che comunque io ci ero andato Poi lo hanno mandato anche le mail Noi avevano anche risposta attualmente Cioè almeno per capire cosa è successo a sto pacco Cioè nessuna risposta E dopodiché finalmente oggi stesso Stamattina Mi hanno risposto finalmente Io ho mandato poi io da me stesso I pomeriggio E mi hanno detto che praticamente di queste otte cose Che avevo ordinato Ne erano due Erano solamente Le patatine L'unico pacco di patatine che avevo ordinato Per portarvi nel canale E a parte le patatine Avevano solamente La rockstar Quella punch Che dovevo ricomprare Cioè allora Le due chupa chups Non ce l'avevano E la Praticamente Mostre di giustamente Quella rossa neanche Anzi Mi ha detto che gli è arrivata Quella nuova E mettete quella vecchia ancora in vendita Cioè di giuro Perplesso Cioè Dico Se voi mettete in vendita Queste cose E poi non le avete Che senso ha Cioè così veramente Ripeto Devo dire che comunque Ringrazio Non so Comunque comunque Questa persona che mi ha risposto Questo di lì Che comunque Gestisce lì All'ecco Lo ringrazio perché comunque È stata una persona gentilissima E Ripeto Ho fatto chiaramente il rimborso Perché Che dovevo fare Cioè Ripeto Addirittura Gli avevo chiesto anche se c'era la possibilità Che arrivasse Perché ripeto Non avevo problemi Cioè Gli avevo chiesto Se queste cose Magari Aspettando un altro paio di giorni Poi se che arrivassero Lui mi ha detto Che quanto pare Non arriveranno proprio Cioè Per farvi capire Di otto cose Solo due ce ne avevano Cioè Addirittura Le tre cose Che sono più facili da trovare Che dovevo portarvi in video Neanche le avevano È assurda sta cosa Cioè Vi giuro E ne avevo altre esperienze Di questo tipo Con altri siti Purtroppo sì Ne sto parlando male Perché ripeto Questa è l'esperienza Che ho avuto Ripeto Mi spese Giusto È successo A me Che comunque sono Diciamo Youtuber E niente Praticamente Comunque Ho fatto il rimborso Chiaramente I soldi non sono ancora arrivati Anche se comunque Mi hanno mandato loro Le mail di conferma del rimborso Aspetto chiaramente I soldi Dopo che arriverà il rimborso Farò un altro ordine Vi posso confermare Anzi Prima di cambiare il discorso Per quanto riguarda Loro Willy B Smart Purtroppo Purtroppo Stava prima E' probabilmente Anche l'ultima volta Che ordinerò Da loro online Chiaramente Non sto dicendo Che non compro Più nulla Da loro Nella serie Che hanno carini Comunque continuerò A servirmi Se trovo qualcosa Che mi serve Per fare i video La prenderò Chiaramente Poi vediamo Può essere Che in futuro Loro Diciamo Che non fanno più Questi errori Io organizzo Sistemi Non meglio Forse fra qualche annetto Fra uno o due anni Ricomincerò A ordinerare Da loro Ma ripeto Per più di un anno O per almeno un anno Non ordinerò più nulla Da loro online Perché ripeto Questa per me È stata una pessima esperienza Da parte Cioè Nel loro sito Cioè Del loro ordine Allora Come vi dicevo Arriveranno Altri tre pacchi Quindi Dovevano essere Due pacchi Questo di Willis Di Smart Con tutta Teve Devo ricomprare E poi un altro Che devo cercare Per trovare altre lattine Purtroppo Con questa situazione Sono costate Ordinali Da vari siti Queste cose Infatti Arriveranno Altri tre pacchi Allora Posso già Spoilerarvi Che Tre lattine Che devo ricomprare Le prenderò Su via vai Quindi su via vai Da via via Arriveranno Sicuramente Delle monster nuove Per il canale E Probabilmente Forse Qualche Altra Bibita Principalmente Arrivanno Lattine Con via vai Perché Diciamo che Solo via Lattine Poi Da un altro Sito Ma mi ricordo Giustamente Il nome Dovrebbe chiamarsi Snack Americano Snack America Da lì Prenderò In teoria Falco Non per quali video Ma Sono due cose Che Ho ordinato Un set di cacciaviti Tanto per così Che è utile Che mi serve E poi Un prodotto Che mi serve Per levare Le cavo Di etichette In queste lattine Perché Diciamo che Stanno rovinando Si stanno rovinando Così Un pochettino Le lattine Vi giuro Ieri sera Anzi Lì notte Ho fatto Una notte A provare Le vasti cavo Di adesivi Attaccate Le lattine Le ho provate Tutte Ho messo Le lattine Nell'acqua calda Col savone Niente Ho usato L'olio Ho usato Il fuoco Niente Di tutte Di più Comunità Ma è Tipo la cosa Attaccata Chiaramente Come Alternativa Praticamente Sto ordinando Se piace di prodotto Non so se Cosa del genere Lo provo Vediamo come va Chissà se va bene Ne prenderò più di uno Poi più avanti Visto che costa 4 euro Chiaramente Il pacco Mi arriverà Da temo Perché diciamo Che non lo dico Da temo Io Visto c'è La spezione Gatuta E mi arriveranno Queste due cose Chiaramente Dopo che Anche se Dove arrivare Questo pacco Comunque L'ordine Lo farò Prima Infatti Come vi dicevo Aspetterò Il rimborso Da Willi Bsmart Ora la maglia è arrivata Però ancora nella carta Non mi risulta nulla Non lo so che tempistica C'è per i rimborsi Perché Non l'ho infatti Mai i rimborsi Io penso che Se ne parlerà Il lunedì Se funziona Come bonifichi Penso che Comunque I soldi Dorebbero tornare Il lunedì Quindi Oggi è sabato Purtroppo Quindi non penso Domane Visto che domani È domenica Quindi non è lavorativo Dorebbero arrivarmi Il lunedì Allogica E niente È andata così Purtroppo Come mi arriveranno I soldi Farò il primo ordine Quello che posso Confermarvi È che il primo pacco Che arriverà Dovrebbe essere Da via vai Quindi se hanno lattine Il secondo Dovrebbe esserci Tutte le patatine Compresa Forse qualche altra E il terzo Bottiglia di bomba Unboxing Se non ci saranno Altri intoppi Io vi saluto E ci vediamo Alla prossima Ciao Ciao